Un caro saluto a tutti, l'ultimo Consiglio regionale è stato piuttosto bizzarro perché è stato un po' figlio della crisi politica che ancora questa regione sta vivendo. La maggioranza si è confusa sul nuovo sistema di gestione dell'emergenza e si è clamorosamente spaccata. Noi di Pur l'Otonomia abbiamo fatto luce sulla questione degli operatori sanitari non vaccinati in Valle d'Aosta, sono ben 344, una questione che deve essere risolta al più presto. Sono proprio quelli che operano nel settore sanitario che devono dare l'esempio e quindi essere vaccinati al più presto. Noi saremo molto attenti a questo affinché ad ottobre non ritorni la pandemia che tanto ci ha penalizzati in questo anno e mezzo. Abbiamo anche sollecitato l'Assessore della Sanità ad avviare l'accordo di programma con lo Stato per recuperare ben 8 milioni e mezzo che erano fermi nel cassetto ormai dal novembre scorso. L'Assessore ci ha comunicato che i milioni adesso sono diventati 17 e l'informazione ovviamente ha comunicato che sono 17 milioni, ma se gli 8 milioni e mezzo fossero stati messi a disposizione subito del bilancio noi avremmo potuto iniziare a spendere quelle risorse in investimenti per la sanità. Abbiamo anche sollecitato l'apertura delle strutture sanitarie sul territorio. È importante che poliambulatori, consultori e ambulatori possano ritornare ad essere aperti nella completa operatività come prima della pandemia Covid, perché ormai è un dato di fatto, la salute non è soltanto Covid. Ma il dato più allarmante della giornata di ieri è che il prodotto interno lordo della nostra regione è sceso del 9%, un dato che è significativo di quanto questa regione ha patito il Covid-19 nell'anno 2020 e all'inizio del 2021. Ora si va verso le riaperture, ma la politica deve fare attenzione, deve avere la capacità di dare al più presto le risorse che abbiamo messo a disposizione e che abbiamo contribuito insieme a tutte le altre forze ad approvare la legge sui ristori e per il sostegno dell'economia. È un momento tragico ed è un momento importante, credo che sia venuto il momento per le forze autonomiste e di centro di trovare una sintesi e dare il via ad una nuova stagione politica per la nostra regione.